Cicu, cicu, qui falco a tutti, qui falco a tutti per la consuetta rubrica quelli che il falco non dice oggi finalmente sono tornato a mangiare al ristorante se ti auguri lì ad esempio, e se che è successo, in pratica di fianco a me si mette una mamma con il bagaglio che era mia andata a scuola e allora gli ha portato a fare il pranzo al bar li lei, li lui e i cagni, i cagni che li ha messi in tenda mia insomma anche i cagni li ha da vincili, quindi dei schili mi ha appiccini, ma è gigantesco, un certo pietro, mi ha chiamato i cagni e a cosa che succede praticamente, dovendosi spostare i lei per anticipare i tempi della cameriera nel bar l'ha messa al guisaglio del cagni sotto al pecco del tau con un tavolo di ferro, quindi era anche abbastanza, per questo, viene dicendo che al più nato, cioè nella mia attacca ha anche la regola plastica che ha un po' qui c'è ancora e ti ha portato anche la regola dal lago e che non è, se che succede, dovete accumandare ria la piadina per la bagai, la fanta e la gacciapata, il calice di sprizz con le patatine a un certo punto si si c'è Femmia son i gel, mi ha calda 6 anni però un'altra i gel, tacca il tau che è plana per circa di cagliare le bricioni che il bagai gattirà dalla piadina Figa! Ha il cagliato, un certo pietro, a un certo punto si ha fatto un saltù per ria la cagliare il volatile, l'inomano cioè l'inomano che faccia stare per ria la cagliare l'altro inomano questo che è successo in pratica al tau che era la ferro, mi ha spostato da tanto mi ha spostato però da quella spanna che ha permesso di fare troppo e troppo in questo caso è stracato a sprizz, che ria la tratta se i jeans e che non può andare praticamente perchè la graduì comandà il secondo bicchiere di sprizz che l'unica mia pagà dicendo che i tavoli non erano più avanti a terra allora mi ha detto mi ha detto che i beni, i migliori, i migliori, i migliori, i migliori, i migliori guarda la madonna però siete semi accuranti degli stessi siete mila schizzi eh lo so che porta fuori un piccanello con un martello tipo chi le ha per piantare tende e l'inomano tenciò dentro a terra cosicché se lui preso da una certa curiosità verso i volatili e che salta addosso se si c'è si c'è che si attacca al piccanello al picchetto e strieca mia sprizz perdissimi dicendo che ho ragione o no? a capa a capa a capa a capa a capa a capa a capa